eccoci a dare uno sguardo allo shop del 26 giugno 2021 per prima cosa cos'è che capita sotto all'occhio jules da spiaggia eccola qua questo zainetto meccanismo cosmico eccola qua fai con la gem poi vabbè questo testa di pomodoro simpaticosa fa il tagliapizza idem doppio del teplano mozzarelloso poi andiamo avanti con sagan da qua per 800 vbac mi pare proprio carina piascico ecco qua con lo squalozzo l'eltaplano venturion sito turistico con versione anche femminile ecco qua col mantello volendo anche ci sono ok un po' una mazza alla golf futuristica torna a bachi acqua romo e due ostrega apertura vabbè qua la musica questo balletto qua 500 con musichetta anni 90 abbiamo ancora il mida di mezza estate rubi passerella che non si capisce se deve fare una sfilata di moda quindi sulla passerella o perché passera parola da spiaggia rottero skin molto seria il pacchetto leggende estive con la cappuccetta rossa estiva toy questa tipa qua e la bananita pelata che fa modirla a ridere il pacchetto riflessioni notturne il pacchetto joker che ce l'abbiamo fuori dalle orbite e basta per oggi è tutto ciao a tutti al prossimo shop ciao a tutti